se siete sempre di fretta ma non volete rinunciare a un ottimo primo piatto fate con me questa squisita pasta con zucchine filadelfia e pancetta affumicata è una vera bontà facciamola insieme iniziamo e allora per prima cosa tagliamo finemente la cipolla ok ora grattugiamo le zucchine e una volta grattugiate tutte ci spostiamo sui formelli e in padella mettiamo l'olio extravergine di oliva mettiamo la cipolla e la facciamo rosolare per un minuto passato un minuto mettiamo le zucchine regoliamo leggermente di sale e facciamo cuocere per 10-12 minuti a fiamma media mescolando stesso nel frattempo se l'acqua bolle la saliamo già e mettiamo a cuocere la pasta ora in una padellina antiaderente mettiamo la pancetta affumicata a cubetti e la facciamo rosolare a fiamma medio alta mentre il tutto cuoce vi ricordo che se volete potete trovare le mie ricette sul blog carlogaiano.net se siete su youtube potete seguirmi cliccando qui sotto sul tasto iscriviti oppure cliccando qui su sul tasto segui se siete su facebook perfetto a questo punto abbassiamo la fiamma mettiamo il formaggio spalmabile mescoliamo aggiungiamo anche un po di acqua di coltura della pasta e facciamo sciogliere bene in modo da rendere tutto cremoso ok vedete che bella cremina adesso trasferiamo la pasta bella al dente per il momento lasciamo a fiamma spenta e mescoliamo bene bene qualora si dovesse asciugare un po non esitate a mettere un goccio d'acqua di cottura della pasta vedete a me va bene ma ce ne voglio aggiungere giusto un goccetto sempre in piccole quantità ecco allora la pasta è pronta ora non ci resta che mettere la pancetta croccante se volete ci mettete anche un po di parmigiano andiamo un ultima mescolata e andiamo subito a servire ed eccola qua guardate che bel piatto non mi resta che assaggiare con voi non potete capire è squisita vi invito davvero a farla e se la fate fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto io vi saluto e vi auguro buon appetito